carissimi amici del canale telegram dentro la notizia è sempre un piacere per noi darvi buone notizie ma in questo caso è un vero e proprio spasso raccontarvi questi grandiosi fatti che paiono la sceneggiatura di un film ambientato tra 007 e personaggi comici in certi momenti farò fatica a trattenere le risate ma cercherò di non lasciarmi andare prima di dare inizio al film permettetemi una premessa seria è veramente incoraggiante sapere di non essere soli a combattere per le libertà costituzionali in fondo è coraggio sapere che dall'altra parte del mondo c'è qualcuno e sono tanti che sta lottando contro le losche trame delle diaboliche elite ai danni dei popoli sapere questo ci incoraggerà a resistere e continuare con più fiducia la nostra battaglia per la verità e la libertà nonostante che gli accoliti delle diaboliche elite cerchino in tutti i modi di farci tacere in totale spregio della costituzione che garantisce la libertà di pensiero e parola se negli stati uniti viene fatta giustizia e pulizia del marcio potete ben immaginare che tutto il mondo ne beneficerà bene detto questo iniziamo potete vedere il video integrale sul nostro canale telegram iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice carissimi amici del canale dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su telegram per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su telegram e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro roby